bentornati su my football jersey vediamo una maglia retro di una squadra stupenda leggendaria questa è la maglia del liverpool di casa ovviamente per la stagione 2004 2005 la maglia di gerard la maglia di gerard wow questa maglia è bellissima lo dico di tutte le maglie ma veramente quelle che compro è perché mi piacciono nella classifica questa prende 4 stelle veramente bella tra l'altro di uno dei giocatori che preferivo a suo tempo un centrocampista fantastico il costo lo vedete qui sopra se la maglia può piacere non piacere a me strapiace il costo non si può discutere è veramente imbattibile in descrizione qua sotto trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia mi raccomando andate a vedere perché c'è anche un link per ottenere un coupon da 3 dollari quindi beh ancora più conveniente ora vi lascio la parte finale prima però lasciateci un grande like iscrivetevi al canale a voi non costa nulla e a noi ci permette di offrirvi sempre nuove recensioni per oggi è tutto ci vediamo alla prossima io sono alto un metro e 75 e peso 70 kg circa quella che vedete è una taglia media della versione fan è una taglia media della versione è una taglia media della versione è una taglia media di